Il Natale si vive anche e soprattutto attraverso le tradizioni e quella del presepe è forse una delle più antiche ma anche delle più caratterizzanti. Le rappresentazioni viventi non mancano e quella di Simeri Cricchi in provincia di Catanzaro è certamente una delle più importanti. Saranno infatti circa 200 i figuranti che nei giorni di venerdì 28 e sabato 29 dicembre daranno vita alla settima edizione permettendo ai visitatori di rivivere l'atmosfera di Betlem nel centro storico del comune del Catanzarese. Questo presepe vivente avrà ben 200 figuranti dove appunto rappresenteranno gli antichi mestieri lungo il percorso dove i visitatori potranno anche degustare delle prelibatezze appunto tradizionali del Natale qui in Calabria. Il percorso prevede appunto tutto il centro storico del paese di Simeri Cricchi e i preparativi sono partiti circa due mesi fa e ci prepariamo appunto per l'evento più importante, l'evento religioso più importante che è il Natale. Due mesi di preparativi dove oltre 150 tra soci e volontari stanno contribuendo per la realizzazione di questo evento.